Ah Yoko finalmente dopo quel lunghissimo viaggio non ce la faccio più siamo arrivati Guarda quella montagna dice che dovremmo salire là sopra Guarda dietro c'è pure un raggio Dovemo andarci Fai attenzione comunque perché potresti cadere a farti molto male Ok va bene allora Andiamo andiamo veloce veloce Ok qua Yoko fai molta attenzione perché potresti cadere da un momento all'altro Vai vai prima tu No Yoko hai visto che figata dobbiamo andarci subito Sembra pericoloso andarci in due Hai ragione dobbiamo chiamare aiuto per iniziare questa avventura No Yoko No Yoko Grazie per la visione!